Con il patrocinio dell'amministrazione comunale e l'organizzazione dei volontari del gruppo fuoristrada di Sermide che fa capo a Gianfranco Luppi e del gruppo Delta della protezione civile si è svolta la simpatica e solidale gita rivolta ai ragazzi seguiti dalla cooperativa Il Ponte. L'iniziativa denominata una gita speciale per ragazzi speciali è alla sua terza edizione. I volontari si sono messi a disposizione con il loro fuoristrada per portare i ragazzi in una escursione lungo l'argine del Po, quindi nella zona boschiva golenale e sulle spiagge del fiume da Sermide, Carbonara, Borgofranco e Bonizzo. Buongiorno, questo è il terzo anno che usciamo con i ragazzi del Ponte, una gita speciale per ragazzi speciali che ci fa molto piacere, organizzato Sermide e tutti volontari, tutti con un cuore grande come il mondo. Raduno presso l'area camper adiacente la nautica e grande attesa da parte dei ragazzi. Il primo giro con le jeep grazie a questi volontari che ci portano a fare una gita stupenda nelle golene del nostro fiume Po, arriveremo fino a Borgofranco, faremo un bellissimo rinfresco, chissà che cosa mangeremo, cosa berremo, poi torniamo indietro. Dove stiamo andando? Stiamo andando sul slip. Stiamo per andare sulle jeep, sono tutte pronte? Sì. Facciamo un giro? Sì. Sotto l'argine? Sì. Bene. Hai già fatto? No. Bene, va bene, nuova esperienza per tutti. Agli ordini di Lupo Gianfranco, i ragazzi e gli educatori del ponte sono stati assegnati ai fuoristrada, quindi la partenza spettacolare della lunga colonna lungo l'argine del fiume. Preziosa la collaborazione dei volontari del Gruppo Delta della Protezione Civile, che oltre a supportare il convoglio, hanno preparato una merenda per tutti nella sede del Gruppo Delta. Un pomeriggio alternativo all'insegna del divertimento e della scoperta di luoghi di interesse naturalistico. Grande entusiasmo e riconoscenza da parte dei ragazzi speciali del ponte per tutti i volontari che si sono prestati per rendere indimenticabile l'occasione.